... Questa mattina in aeroporto manifestazione di Forza Italia, la presenza dei rappresentanti istituzionali e regionali del partito, stop l'immobilismo della giunta Pigliaro sul tema low cost. E' sempre questa mattina festa al centro residenziale Anziani di Alghero per i 108 anni della signora Giovannina Pistidda. Il sindaco e tante persone si sono volute stringere attorno alla centenaria. Come ogni sabato nel nostro TG tutti gli appuntamenti sportivi del weekend. L'Alghero gioca a Olmedo a causa dell'indisponibilità del Mariotti, Fertilia a Sorso, Amatori Alghero in campo a Sassari per il match casalingo contro Parma. Nel weekend giocano anche le squadre femminili di Mercedes-Pallacanestro Alghero. Un saluto a tutti voi ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con l'informazione locale su Catalan TV. Come avete visto dai nostri titoli, apriamo con il tema caldo di queste settimane, ossia il trasporto aereo low cost, il possibile addio di Ryanair, perché questa mattina in aeroporto si è svolta una manifestazione organizzata da Forza Italia dal titolo Volere e Volare, volta a scongiurare il pericolo del taglio dei collegamenti aerei appunto nell'aeroporto di Alghero. Presente Marco Tedde, vice capogruppo in consiglio regionale, l'europarlamentare Salvatore Cicu, ma anche il coordinatore regionale del partito Ugo Cappellacci e altri due consiglieri, Antonello Peru e Pietro Pitalis, che è anche capogruppo regione di Forza Italia. Con loro altri rappresentanti istituzionali e locali del partito Azzurro. L'immobilismo della giunta Pigliaru sta causando enormi danni all'economia della Sardegna e non ci si può permettere di perdere altro tempo. Ha detto Tedde, aprendo l'incontro di questa mattina, occorre coraggio e decisionismo perché gli strumenti per incentivare il low cost esistono, sono legittimi e non possiamo permetterci di tornare indietro di 15 anni. Immobilismo della giunta regionale, che è finita nel mirino anche degli altri esponenti forzisti. Cicu nel ricordare come sia difficile muoversi tra le rigide norme della comunità europea ha sottolineato come il problema grave sia la mancanza di un piano di promozione turistica per la Sardegna. Ora ascoltiamo alcune delle interviste realizzate questa mattina a partire proprio da Marco Tedde. Marco Tedde, quest'oggi Forza Italia in aeroporto, a tutti i livelli possiamo dire, vuole far sentire la propria voce per salvare i voli low cost ad Alghero. Assolutamente, noi riteniamo che i voli low cost non si salvano con i comunicati stampa o con gli aerei di carta, così come ritiene che si possa fare Pigliaro. Noi riteniamo che Pigliaro debba intervenire immediatamente, mettere in campo tutte le soluzioni possibili e immaginabili per salvare questo importante settore dei collegamenti, questo importante settore dei trasporti turistici. Ci sono delle norme che debbano essere applicate, oppure Pigliaro, se queste norme non le condivide né inventi altre, ma non è possibile che continui a intrigerarsi dietro la legge 10 del 2010 che è soggetta attualmente a infrazione. Se la legge 10 non la ritiene conforme al quadro europeo, ne faccia un'altra. Noi siamo disposti a dare una mano, noi siamo disposti a collaborare, però è necessario che la giunta si muova. Ryanair, noi siamo convinti, voglia parlare con Pigliaro e non voglia attendere oltre. Per adesso sta prendendo nuove rotte in Sicilia, sta portando in Sicilia 2 milioni e 300 mila passeggeri, sta prendendo nuove rotte a Trento e a Verona e sta andando via dalla Sardegna. Alla Sardegna il giro di qualche mese mancheranno 22 rotte, circa 700 mila passeggeri. La Sardegna non può tollerare questo danno economico. Ora invece sentiamo le parole dell'ex Presidente della Regione, Ugo Cappellacci, che è tornato anche sull'incontro avvenuto qualche anno fa, proprio con i vertici di Ryanair, che nei giorni scorsi è finito nel mirino dell'attuale Assessore Deiana. Ugo Cappellacci, quest'oggi Forza Italia, possiamo dire a tutti i livelli, per cercare di difendere i voli Locosta ad Alghero, più in generale in tutta la Sardegna? Sì, credo che sia una necessità assoluta e che le Locosta rappresentino veramente un'opzione strategica indispensabile per la Sardegna. Oggi c'è una giunta regionale che, due anni che non sta facendo niente, che in nome di presunte irregolate europee ha bloccato tutto, con un atteggiamento schizofrenico, perché delle due l'una, se si sostiene che la legge 10 va bene, andava difesa in Europa e andrebbe ancora difesa in Europa. Se come Soru, per esempio, sostiene che la legge 10 non vada bene, c'erano due anni di tempo per modificarla e proporne un'altra. Io faccio una considerazione molto banale, che è veramente di buon senso. Tutti gli strumenti che sono serviti a portare le Locosta in Sardegna, dal primo all'ultimo, sono stati sotto l'ente di ingrandimento dell'Europa e hanno tutti, sino a oggi, passato il vaglio di questa verifica. E allora, qual è il senso di questo ragionamento? Io credo che si debba combattere per sostenere queste ragioni e difendere le Locosta, altrimenti sarebbe un disastro totale. Qualche anno fa c'era stato lo stesso rischio di un possibile taglio di voli a Ryanair, lei con l'allora sindaco Marco Teddevi Recaste a Dublino per parlare con i vertici Ryanair. Ecco, quel viaggio è stato criticato anche nei giorni scorsi dall'assessore Deiana. Sì, perché l'assessore Deiana sostiene che questa foto rappresenti la copertina del dossier in Europa. Io sostengo un'altra cosa, che la sua foto rappresenti la prima pagina delle copertine delle riviste turistiche di Sicilia e Corsica, che festeggeranno la bella stagione turistica con i fuori della Ryanair al posto della Sardegna. Ora facciamo una pausa per la pubblicità, tra poco. Sono troppi gli episodi di criminalità che si sono verificati nelle ultime settimane nella città di Alghero. Questa la denuncia di Claudio Sini, coordinatore del Movimento Giovanile di Noi con Salvini ad Alghero, che segue di pochi giorni l'intervento sullo stesso tema da parte dei rinformatori. Nel 2014, ricorda, erano stati stanziati 120.000 euro previsti da un programma operativo regionale 2007-2013 per l'installazione di telecamere di sicurezza in vari punti della città proprio per supportare le forze dell'ordine nella prevenzione di crimini e la sorveglianza del territorio contro criminalità, discariche abusive e altri fenomeni illeciti. Ma non è mai stato messo in opera l'impianto di sorveglianza e non si sa se e come quei soldi siano stati impiegati. Ci chiediamo, conclude Sini, quali accorgimenti l'amministrazione comunale abbia intenzione di adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. I presidenti delle borgate algheresi invece vogliono vederci chiaro sull'esclusione del finanziamento regionale per progetti ricadenti sulle borgate stesse dei quali abbiamo già parlato ampiamente nei giorni scorsi. Quindi intervento dei presidenti che in una nota esprimono la volontà di andare avanti uniti per il bene della bonifica di Alghero. Come comitati dell'Agro siamo determinati a vederci chiaro. Così i presidenti dei comitati di borgata del territorio ritornano sulla questione riguardante l'esclusione dal finanziamento regionale di 4 su 5 progetti di Alghero rispettivamente ricadenti nelle borgate di Guardia Grande, Maristella, Sassegada e Santa Maria La Palma. La presidente del comitato di borgata di Guardia Grande Corea Giuseppina Congiu interviene dicendo l'opportunità di rifunzionalizzare le nostre ex scuole per fini di promozione del territorio e dei prodotti tipici rappresenta un'imperdibile occasione per riattivare l'economia locale. L'agricoltura sta vivendo in Italia un periodo di riscoperta e con la globalizzazione il made in Italy agroalimentare sta riscuotendo sempre maggior successo. La bonifica di Alghero può e deve avere la sua chance di rinascita così come accade altrove. Siamo in una posizione di vantaggio rispetto a tutti viste le bellezze naturalistiche che ci circondano e la vicinanza a porti e aeroporti. È il tempo di farsi valere. Sulla stessa linea il presidente del comitato di borgata di Sassegada, Tancafarra Antonio Zidda. Le comunità della bonifica vivono in un territorio pensato, situato e costruito in passato per fare agricoltura. Spiega, oggi siamo completamente inchiodati dalla politica con mille vincoli che non consentono agli imprenditori agricoli di investire liberamente. È ora di dire basta e di avere il coraggio di riappropriarci del nostro futuro. Pare ci sia una mano nera che a tutti i costi voglia mantenere la bonifica di Alghero in uno stato sociale, economico e culturale nettamente al di sotto delle proprie potenzialità, danneggiando in questo modo l'intera comunità algherese, non solo quelle dell'agro. spiega. La presidente del comitato di borgata di Maristella, Tonina De Sogos, dice invece abbiamo interpellato il gruppo di intervento giuridico affinché intervenisse insieme a noi in regione nelle sedi competenti allo scopo di far valere le regole dell'avviso pubblico a cui Alghero ha partecipato e che ha visto i progetti del nostro agro penalizzati. È disarmante avere conferma che nulla è cambiato rispetto al passato, anche dopo le ultime lotte che hanno visto la bonifica di Alghero protagonista. Ma non ci arrendiamo, spiega la De Sogos. I comitati di borgata sono uniti più che mai e andremo fino in fondo. Centro residenziale anziani di Alghero, quest'oggi in festa per i 108 anni della signora Giovannina Pistidda che vedete in queste immagini. Questa mattina la presenza dei parenti, del sindaco Mario Bruno, della direzione del centro e di tutto il personale della cooperativa KCS, la centenaria ha spento le candeline della torta preparata per l'occasione. Nella grande sala comune del centro residenziale si è svolta prima la Santa Messe e si è poi proseguito con l'intrattenimento musicale offerto da Giancarlo Sanna, direttore artistico della gruppa Sio dei Voluntarià Cantors Musiz dell'Alghè. Gli anni sembrano essere passati senza scalfire il temperamento tenace l'incredibile lucidità della signora Giovannina. Tuttora la si può cogliere in tenta a occuparsi di piccole faccende quotidiane, come rifare il letto, lavare la biancheria ed è sempre disponibile a raccontare qualche aneddoto ormai storico di un Alghero che non esiste più. Prima e dopo il taglio della torta la signora Giovannina è stata sommersa dagli auguri dei presenti e dello stesso sindaco che si sono stretti a lei in questa giornata felice e importante. Anche la redazione di Catalan TV porge i migliori auguri alla signora Giovannina Pistidda. E da Sant'Anna fanno sapere che l'assessorato all'istruzione ha riaperto i termini per la presentazione delle domande di contributo per le borse di studio, spese scolastiche dell'anno 2014-2015 e buono libri anno scolastico 2015-2016. La prima è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità inferiore uguale a 14.650 euro. I buoni per i libri sono rivolti invece agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un ISEE in corso di validità inferiore uguale a 14.650 euro. Si può presentare la domanda al Comune entro venerdì 19 febbraio 2016. La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito del Comune www.comune.alghero.ss.it, nella sezione servizi al cittadino, bandi oppure presso l'ufficio pubblica istruzione in via Sant'Anna numero 38. Ora facciamo un'altra pausa pubblicitaria. Il Comitato di Borgata di Sassegada a Tancafarrado, dopo il grande successo della prima edizione del 2015, sta organizzando la seconda Sagra della Fragola. Sono previste novità, ulteriori iniziative rispetto alla passata edizione. A tal proposito, lunedì 25 gennaio alle 18, presso il Circolo Sociale della Borgata di Sassegada, si terrà un incontro con tutti i produttori di Fragole della provincia di Sassari che intendono partecipare all'evento. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 347 49 74 285. Ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo come sempre con il calcio e con il campionato di promozione dove in programma la terza giornata di ritorno. Vediamo allora nel servizio quali sono gli avversari di Alghero e Fertiglia. È un match da non fallire, quello in programma domani pomeriggio al Medo per l'Alghero. Non si giocherà al Mariotti a causa di alcuni lavori di manutenzione nel campo, ma sul sintetico del pintore Caddeo. Pesantissima la posta in palio, nonostante il calendario segna appena la terza giornata di ritorno. Alghero e Stintino infatti sono divise da sette punti, ma soprattutto i giallorossi sono penultimi, mentre la squadra di Stefano Udassi occupa quel quintultimo posto che garantirebbe la permanenza in promozione senza passare per i play-out. Obiettivo quest'ultimo da raggiungere per l'undici di Massimiliano Niedu che già domani però dovrà riprendere a fare i punti dopo tre stop consecutivi. All'Uras è arrivata una sconfitta emeritata, ma anche buoni segnali dopo la brutta prova contro il Porto Torres. Pur il Fertiglia proverà a fare punti domani, nonostante l'avversario decisamente ostico. I gialloblu infatti faranno visita alla vicecapolista Sorso che nelle ultime giornate ha perso però un po' troppi punti per strada, scivolando a meno 9 dall'Ilva Maddalena. Sono 9 invece i punti del Fertiglia che si trova purtroppo stabilmente all'ultimo posto, ora a meno 6 dalla zona play-out e addirittura a meno 11 da Stintino, ma come rese Porto Torres. A Sorso non sarà semplice, ma anche un solo punto potrebbe dare una bella iniezione di fiducia ai ragazzi di Bardini che poi avranno quattro scontri diretti consecutivi a disposizione per cercare di colmare il gap. Anche domani qualche piccolo problema di formazione, mancherà certamente lo squalificato Fadda e come già accaduto negli altri match, Bardini darà grande spazio ai più giovani. Allora ricordiamo ancora una volta la partita dell'Alghero domani contro lo Stintino che si giocherà non al Mariotti ma al pintore Caddeo di Olmedo confermato l'orario alle 15. E ora come sempre andiamo a vedere anche le partite in programma negli altri campionati iniziando dalla gironee di prima categoria dove troviamo al quarto posto proprio l'Olmedo. La squadra di Gianluca Pinna cerca il quarto successo consecutivo sul campo della Lanteri prima dell'atteso match in programma la prossima settimana contro la capolista Cus Sassari. Si torna a giocare anche in seconda categoria nel girone P dopo la pausa, in questo caso siamo al giro di Boa, quindi prima giornata di ritorno con la vice capolista Audax che insegue a meno uno l'Ittiri e che ospiterà Santa Maria La Palma la Ginnasium. Il Treseliges che invece occupa il terzo posto giocherà sul campo del Sogba. Infine il Maristella sarà impegnato in casa contro il San Domenico Caniga. Ora facciamo un'altra pausa pubblicitaria. Gara casalinga fuoriporta non solo per l'Alghero ma anche per l'amatori rugby che domani a Sassari al comunale Arena del Sole per la squalifica del proprio campo ospiterà il Parma. Obiettivo di avversi compagni il pronto riscatto dopo la sconfitta nel derby con il Capoterra. Algeresi a caccia del quinto successo stagionale. L'amatori rugby Alguero va in cerca del pronto riscatto nella gara che domani alle 14.30 la opporrà a Rugby Parma 1931. La partita valevole per l'undicesima giornata del campionato nazionale di Serie B. Si giocherà a Sassari sul campo comunale dell'Arena del Sole, località Baddelonga-Russeglia. Questo a causa della squalifica del campo inflitto in precedenza dalla federazione e che prevedrebbe la disputa di tre gare lontano dal terreno di gioco amico per gli algheresi. Il condizionale è d'obbligo dato che la società si sta muovendo per potersi vedere diminuire le giornate di squalifiche in questione. Tornando alla partita di domani. L'amatori rugby Alguero è intenzionata a vincere per incrementare ulteriormente i punti in classifica. Il derby con il Capoterra ha lasciato l'amaro in bocca agli algheresi che vogliono subito riscattarsi andando a caccia della loro quinta vittoria stagionale. Lo stesso però cercheranno di fare i parmigiani che arrivano in Sardegna con alle spalle la pesante sconfitta interna subita sette giorni fa con Biella. Ma Anversa e i compagni non sono disposti a lasciare andare via punti. Nonostante si giochi a Sassari, si spera che i tifosi dell'amatori decidano di seguire comunque in tanti la squadra dandole il supporto che da sempre caratterizza le gare a Maria Pia della compagine algherese. Come detto il fischio d'inizio della gara è fissato, per le 14.30 arbitrerà il signor Claudio Castagnoli. Intanto domani, sempre a Sassari, ma alle 10.30 scenderanno in campo anche i regbisti in erba delle under 8, 10 e 12 che si affronteranno con i parietà turritani. Passiamo al basket, vediamo quali sono gli impegni che attendono le nostre formazioni cestistiche locali. Partiamo dal campionato di Serie B femminile con la Mercedes che sarà impegnata nella prima gara della fase cosiddetta orologio dove partecipano tutte e otto le squadre. Alla fine le prime quattro giocheranno i play-off dopo aver chiuso il girone di ritorno della prima fase con una netta vittoria sul campo del fananino di coda a basket 90 Sassari che valse il terzo posto in classifica. Oggi alle 18.30 le ragazze di Manuela Monticelli saranno impegnate sul parquet della vice capolista Antonianum Quartu. Nel campionato regionale di Serie D maschile invece turno di riposo per la palacanestro alghiero. La squadra di coach Brembilla, reduce dall'importante vittoria con la Dinamo 2000 della scorsa giornata, tornerà in campo poi la prossima domenica a Oristano per affrontare l'Azzurra. Nel campionato di Serie C femminile infine le ragazze, sempre della palacanestro alghiero, affronteranno la quarta giornata del campionato con una trasferta che le porterà a giocare sul parquet della Rimar Basket Ferrini Quartu. Anche per oggi è davvero tutto, ora come sempre spazio alle prisioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana.